Ciao a tutti amici! Ma perché non parli? È un video muto questo Ma non si sente niente, i nostri amici non sentono così Ciao a tutti amici! Benvenuti in questo nuovo video! Dove è andata Hilary? Già scappata? Ragazzi, oggi è un video come? Oggi dovremo prendere la piscina di Pop It Oggi praticamente ragazzi stiamo per fare una piscina incredibile Ecco, intanto Hilary è andata a prendere la piscina Portala a Quila Faremo una piscina di Pop It C'è una cosa incredibile, guardate Ecco, questa è la piscina e adesso I Pop It! Ecco i Pop It! Aspetta, guarda quanti ce ne avevo Mamma mia! Guarda che ho portato Tantissimi! Di nuovi Questo Quali Pop It hai? Questo e questo Nuovo Ma è fantastico Guardalo Oh, a forma di elefante Mamma mia, c'è un Pop It elefantoso Questo starà benissimo dentro la nostra piscina Guardate che bello Cioè ne abbiamo 100 ragazzi Abbiamo 100 Pop It da mettere dentro la piscina Comunque allora Prima di iniziare il video Iscrivetevi al canale E lasciate un bel like alla campanellina Prima di iniziare il video Iscrivetevi al canale L'avete fatto? Lasciate un bel like E attivate la campanellina Per non perdere tutti i nostri video Intanto Hilary Si sta preparando per gonfiare la piscina Ok amici Adesso proveremo a gonfiare Prima di tutto la piscina È vero Ma non sarà un'impresa facile Ci metteremo Tre ore Tre ore Ma speriamo di meno Allora bisogna trovare per primo il buchino Ma io non so come funziona Papà Dammi una mano Papà Spiega ai nostri amici come funziona Papà devi costruire la pompa Devi costruire Eh, come la costruire? Ah, ecco aspetta Forse questo va qua Questo va qui Ci siamo Ci siamo qua Ma lo so confia io però Speriamo che funziona Ma sembra un serpente Ah, ma sai perché non funziona? Perché ci sono due buchini Forse un buchino per volta Vai Ok Ok Ecco ci stiamo riuscendo Certo ci vorrà un bel po' di tempo Ci vorranno almeno 5, 6, 7 volte Eh? Non ci stiamo confiando per questo Ho un'idea Ah Vai Dai Mi prego Però ecco si sta gonfiando Ci siamo quasi Nel mentre che Hillary gonfia la piscina Io vi faccio vedere qualche pop-it Nuovo Allora ragazzi Abbiamo Tanto Hillary finirà fra un'ora credo Comunque per fare questa piscina di pop-it Abbiamo un pop-it A forma di Peppa Pig Poi abbiamo un panino Ok Poi abbiamo una farfalla Poi abbiamo un elefante Poi abbiamo Peppa Pig Poi Poi abbiamo un cuore Una bibita Abbiamo 100 pop-it Ehi Ma ti stai gonfiando o no? Che sudata ragazzi Veramente Ma abbiamo una piscina? Ma è più gigante di Hillary Allora abbiamo gonfiato tutta la piscina Ok adesso ho preparato l'acqua Io ho preparato l'acqua Scusa dove prendiamo adesso l'acqua Per riempire una piscina gigante di pop-it Vieni Un po' d'acqua all'interno della piscina Ok ragazzi siamo pronti Allora intanto qui abbiamo i pop-it da mettere all'interno della piscina Ragazzi che mentre Hillary riempie la piscina Io farò un bello scherzetto Gli nasconderò tutti i pop-it Che cosa? Mi vuoi buttare nella piscina? No Vestita no però ancora Che cosa? Mi vuoi buttare nella piscina? Ancora no Perché sono vestita Ma io non ho detto che ti buttino nella piscina Ho detto proprio un bel niente Tu continua a riempire la piscina Vai tranquilla Vai tranquilla Che c'è? Sto guardando Perché mi stai guardando? Perché non voglio che mi spingi in piscina Ma non ti spingo in piscina Tranquilla Non ci penso proprio Adesso Mi nascondo tutti i pop-it Ehi mamma Ehi che c'è? Se ne accorta Non lo sapevo Non si può fare nemmeno uno scherzo Ehi Dimmi le messi Dimmi le messi Dimmi le messi Dimmi le messi Ragazzi una volta è fatta Ma Hilary Sbaglio o manca qualche pop-it per terra? Dove le messi? Ma non ce l'ho io Dove le messi? No chiudi l'acqua Chiudi l'acqua che mi farà 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 Ce l'ho tre Quattro Ce ne avevi solo quattro Te ne mancano forse un'altra decina? Meglio trovarli Bravo Mi hai trovato? Bravo Certo bravo Bravo un corpo Quanto manca per riempire questa piscina? Ancora non ho fatta Vabbè Mentre Hilary sta qua Riempendo la piscina Che ci vorranno Cento anni Io mi vado a fare Un piccolo riposino E Hilary Quando hai fatto Mi sveglio ok? Ok Va bene Adesso va bene Faccio un bel scherzetto Che lo faccio Allora Hilary Io mi vado a fare Un bel riposino Quando è tutto pronto Mi chiami Va bene? Va bene Buonanotte Ciao Ciao Ma cosa sapevo Che non si può nemmeno dormire Ma hai bagnato tutti i piedi Ma io volevo solo dormire un pochino Adesso io Non ti faccio più Hilary Mi hai fragicato veramente Adesso mi vendico Adesso io ti bagno proprio Cioè Non mi posso nemmeno addormentare un momento Ed è maturo Fragica Hilary Basta Ma riempi questa masca Adesso io Lo sai che faccio Ti butto tutti i popi Adesso io butto tutti i popi Bravo Aiutami No no Non hai capito Te li butto Non nella piscina Te li butto proprio nel secchio Nooo Così ti impari a farmi scherzetti Ah Hilary Basta Hilary Scusa Scusa Quanto pensi che manca? Trenta minuti Quanto? Trenta minuti Trenta minuti? Io credo che c'è abbastanza acqua Vediamo un po' se Peppa Pig Peppa Pig affoga Vediamo Oh galleggia Potrà passare Ma sai che vuol dire questo? Che finalmente possiamo mettere tutti i pop-it Nella piscina Nella piscina Il cuore Altri due Ma quanti sono? Abbiamo anche questo Ma quanti sono? Cioè lo sapete cosa vuol dire questo? Aspettate Come senti l'acqua? Com'è l'acqua? È fredda? Adesso la scaldiamo un pochino Ci mettiamo casomai un po' di acqua calda Comunque lo sapete che vuol dire questo? Che siamo pronti Per fare il bagno in una piscina Piena di? Papi Allora ragazzi Noi ci andiamo a fare un bagno Voi iscrivetevi al canale E lasciate un bel like Lasciate un bel like Lo sapete che mi si muove il dente? Dove? Quello che è davanti È vero Ilaria ha un dentino che si muove E tra poco sta per cadere E se cade il dente chi viene? O tubolino O fatina O pepe Scriveteci nei commenti chi potrebbe venire Secondo voi se Ilaria perde il dentino Comunque ragazzi Ah un'altra cosa Mi sono scordato Se volete vedere che stiamo facendo il bagnetto nella piscina Andate sul nostro canale Instagram Per vedere le foto Come ci chiamiamo su Instagram? Ilari Pollari Papà Pollari Ma che stai a dire? Ci chiamo Stefano Pollari O Stefano Ilari Questa è la nostra icona di Instagram Adesso Adesso noi ci andiamo a fare un bel bagnetto In questa vasca piena di poti E ci vediamo a domani Con un nuovissimo video Ciao Ciao Ciao